Mary Jane asmr ciao ciao ragazzi ben tornati in un nuovo video asmr ultimamente cari hanno deciso di abbagliarlo quando registro ogni notte nell'anno molto bello ma quando sono leggiate questo di oggi sarà un video con una collaborazione con una ragazza a mio parere estremamente brava questo sarà un video slow, letto e fast asmr la mia parte sarà interamente in slow sia qui che sul suo canale la sua parte sarà in fast aggressive sia qui che sul suo canale sto parlando della dolcissima bellissima bravissima ilaria del canale dark moonrise asmr io sono contentissima di averla qui con me sul mio canale sul mio canale vi lascerò la seconda parte del video appunto appunto in il canale di ilaria passate a trovarla non ve lo pentirete iniziamo subito appunto il un l'ultimo oppure oppure e quindi rip appunto le qu'è il appunto 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 Grazie a tutti. ok grazie a tutti 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 ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti